A Gerre stamattina si è consumata l'attesissima riunione della quinta commissione per discutere di PRG, in particolare dell'atto di indirizzo votato in giunta ormai noto come cemento zero, anche se gli addetti ai lavori dell'urbanistica preferiscono parlare di volume zero. Al di là del nome della proposta, oggi in quinta commissione, come forse era ampiamente prevedibile, il sindaco Roberto Bonaccorsi non è stato accolto con rose e fiori. Tania Spitaleri ha ribadito il fatto che temi così importanti andrebbero portati prima in consiglio comunale che sui media, mentre invece il presidente Salvo Camarda si dice pronto a coinvolgere tutta la città su questo importantissimo tema. Per Camarda però è altrettanto importante sapere se a questo punto, dopo la proposta cemento zero, che fine farà la vecchia variante al piano regolatore, partorita nella precedente consigliatura. Roberto Bonaccorsi sembra pronto ad andare per la sua strada e ha ribadito la volontà di confrontarsi su cemento zero o volume zero che dir si voglia in tutte le sedi possibili. Dopo questo primo passaggio in commissione, adesso si attende il passaggio propriamente consigliare e già qualche assaggio potrebbe esserci anche mercoledì sera.